ciao ciao direttamente dal parcheggio di valduce stiamo andando all'inaugurazione della città dei balocchi anno 2019 si spera perché sta piovendo come se non ci fosse un domani non c'era un'anima per la strada vediamo e andiamo a vedere diamo il mio ufficiale a tutti i video natalizie adesso riuscirò ad ammazzarmi per le scale si dai video natalizie di dicembre e niente quindi andiamo a vedere pronti ancora non è partito niente nel questione di due minuti no 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 Grazie a tutti. 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 Detto questo... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.